Si fa di sposarmi? Ispirato a una storia vera. L'ambasciata ci ha detto di lasciare il paese. Serve a un visto! Devi andare. Non voglio andare! Non voglio lasciarti! Non voglio! Lo vuole sapere il sesso? O aspetta suo marino? Sassi, dove sei finita? Kimi! Vado a prenderlo! Quello che fate qui è illegale e lei lo sa! Sono venuta dall'Olanda per riprendere mio marito. Dov'è il suo marito? Non lo vogliono liberare! Raphael. Domenica alle 21.20.